benvenuti alla newsletter di oggi del canale televisione mediaset arriva la conferma ufficiale da uno dei volti più amati dell'emittente pronto al gran ritorno dopo il successo del 2023 al pari della rivale rai anche mediaset nel 2023 ha affrontato parecchi scossoni interni a partire dalla morte di silvio berlusconi deceduto a pochi mesi dal giornalista maurizio costanzo incaricato alla gestione dell'impresa familiare l'amministratore delegato pierre silvo berlusconi ha annunciato un drastico giro di vite nei confronti dei contenuti trash a partire dagli amati format grande fratello e uomini e donne allontanando al contempo dalle reti del biscione alcuni volti eccellenti uno su tutti quello di barbara d'urso privata del suo pomeriggio 5 ed ormai distanza a londra anche belen rodriguez ha dato forfè per tussiche vales e le iene ed il destino di mila riblasi infine appare assai incerto in questo scenario in continua evoluzione poche ore fa è spuntata una certezza uno dei programmi più pruriginosi e quotati sui social tornerà a breve sugli schermi di mediaset mediaset arriva il comunicato di filippo bisciglia l'apprezzato conduttore filippo bisciglia ha recentemente chiuso il sipario sull'ultima edizione di temptation island ma alcuni insiders di mediaset ne avevano preannunciato l'inserimento in palinsesto in una nuova versione invernale era stato quindi inaugurato il toto nomi per la conduzione del format incluso quello di maria de filippi ma nelle ultime ore filippo bisciglia ha diffuso sui social un comunicato chiarificatore il conduttore ha riferito ciao ragazzi buonasera a tutti la notizia che sto per darvi è stata detta scritta e trattata insomma oggi finalmente posso ufficializzare e sono felicissimo di farlo che alla conduzione di temptation island winter edition oppure temptation island winter oppure temptation winter non sappiamo ancora come si chiamerà il programma ma lo scopriremo a breve ci sarò io questo per me è un onore scendere in campo durante il palinsesto mediaset invernale per me è davvero gratificante quindi voglio ringraziare l'azienda e ovviamente maria de filippi per la conferma del sottoscritto nonostante le numerose illazioni in rete i vertici di mediaset non avrebbero ancora assegnato un periodo ed uno slot di programmazione per la versione invernale del programma né tantomeno una location filippo bisciglia ha infatti concluso che dirvi sicuramente anche voi vi starete domandando come sarà dove in che modo ma il pinnetto ma il falò ragazzi sono tutte cose che scopriremo più avanti ma io intanto immagino grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti